Ciao ragazzi! Ciao! Siamo tornati! Oggi guarderemo i best moment di social facebook A sto punto io farei vedere quella challenge in cui tipo eri diventato il campione di calcio, il Messi Allora ragazzi Voglio bella sta challenge E' forse l'unica challenge in cui io posso vincere La challenge funziona così Abbiamo un tentativo per far passare la palla Questa ciambella, questa ciambella E far cadere più scatoloni possibile E' tutto fiero che spiega lui Cosa in cosa? Ma io posso mettere la gamba? No, posso mettere la gamba Peppere! Che è toccata la scatola Stava cadendo per pietà la scatola Ok ferma Paura Attenzione Io sono Gigi Io gigio Eeeh Raga perché si poteva anche sfondare direttamente Sembrava un po' Pablo e Scobardo Comunque Però niente Eeeh Meglio di Pappamelo Cosa meglio di Pappamelo Ma fuori quello di Pappamelo La ciambella è passata Ma tu hai visto una palla per la papà Lo stavo barando Barando E' anche il primo buco Comunque nessuno Papà hai messo tutto Tu madre ha messo tutto nel cervello Ma nelle gambe niente Attenzione Questa è seria Attenzione E' arrivato Zazza Eeeh Ha funzionato il balletto Il balletto ha fatto funzionare tu Ho fatto malissimo Lo sento ancora del libido Ancora adesso Mamma mia White thing C'è un po' nel sudarello Posa Posa Ah Devi passare in mezzo Non hai capito No adesso ricordo che stavo cercando di barare io eh Dai Ci provavi in un altro modo se non sbaglio Con le mani No così Beh Bravo papà Se lo facciamo noi ci spacca la testa per terra E ci sta Poi questa comunque è la puntata di Lorenzo vi ricordo E in un'altra challenge che ho deciso io Si è stato stracciato Tra l'altro Qual è la scusa? Col cibo Oh Oh Raga Guardate cosa ho portato per voi Una sorpresina Un odorino un po' particolare Ah sono ciambelle E' un regalo della fan Era pure un regalo mi ricordo Si Ma quello l'ha trovato a sta fanno No no Com'erano? Ma com'erano? L'odore era Invitanti Dici un po' com'erano Ma te ti mangi lo schifo Pasta di sesamo e cimiciurri 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 Imangiabile quella roba là Salza di soia a salsa di ciocco E' una felipatizione E' buona E' buona La soia è buona E' buona Guarda come gli piace Guarda Che uomo papà Voi non capite le parti del cibo Non riesco a guardare queste cose Vedi a vomitare Salsa di pesce Cos'è la salsa di pesce? E' un pesce tritato Ma lui ha vinto solo per il competitive Eh no non è vero A me piace Guardalo Ma che schifo Le bombole Ma come fa? Devi finirla Non basta metterla in buca E' la finita praticamente Mi sta venendo da vomitare Ma dai E' impossibile E' impossibile Secondo me la sua non ce l'aveva messo niente in realtà Sono capperi e salsa di pesce Non dovevi dire Non dovevi dire Ma come tutta Sta tendendo da metà a lui tutta Guarda guarda come la so sbaffata Guarda guarda che è falso Guarda Questa è buona no davvero No Lare questa è buona Questa è buona Questa è buonissima Ma dai Raffano Lo faceva sempre mia madre Era buonissimo Si ma dai che ti dico una cosa Già facevano schifo quelle ciambelle Più sta roba Ehm 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 Maionese Cosa è buono i carciopi Cosa è buona La maionese è buona Ma Vigella Volevi scambiare con me No papà Oh raga non ce la faccio Hello darkness my old friend Oh mare Ehm Questo si può mangiare Questo si può mangiare Questo si può mangiare Rispetto a quella che sembrava di sale prima Vi do un consiglio Se nella vostra mente Pensate che questa è una ciambella Ma è un toast Ma che cosa vuol dire Dai lecca questo di cangelato fallo dai E lecca questo di cangelato fallo Cazzo vuoi Aaaaa Lo mangerà mai più una cittadina Io non ci vedo nulla di sbagliato Il trenere motivazionale Perché insegni queste cose papà Quella è radioattiva raga Lore mangia Ma riesco il piccate mi fa schifo Ma dai già Oh 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 Iconatino E' rimasto è rimasto è rimasto E' il conatino pure Iconatino Quanto tempo ne abbiamo perso Ma guarda secondo me hanno perso loro Io ti ricordo C'è stata un'altra challenge con le carte Ah già Con la roba da cima Che valeva Era anche leggendaria quella carta Guardiamo Signori Ragazzi Chi si colpisce prima vince Con la vernice Con la vernice Devi fare quattro sfide Che arriva Chi fa più punti vince dai Quattro sfide Mi ricordo che in questa challenge Non so perché Io non stavo giocando Ma alla fine sono quello uscito peggio È vero È vero È vero Ci siamo colpiti Gente che muore Ma hai tirato un pugno Era finito lo scabello Mi hai tirato un pugno Ma in tutto ciò nessuno è colorato Ma ma lo rifacciamo oggi Questo è bello Se sei già blu non so Io non so perché ero sporco io Così a caso E tanto vedi alla fine Vedi che era così la maglietta Non capite niente Cioè tu sei arrivato con il casco Esatto No Sascha era pulito Eh vabbè Via l'elmo Niente con cosa Mettiamo il casco Attestate in faccia Esatto Non vedo niente Oh raga Mi raccomando Mi fate male eh Uno Un 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 Dio Ma perché mi ricordo che in tutto ciò, io non c'entravo niente alla fine ci ho perso io perché Perché è scocciata nel ridicolo è capitato così L'uomo di latta l'uomo Chi non c'entrava nulla Tutto c'è una squadra con te non mi hai picchiato prima Vabbè è importante aver vinto Comunque ragazzi non vorrei dire però sapete tutti che rocket league me la capo benissimo e dal vivo anche non c'è stata storia Vabbè guardiamo Non avete una clava Dovete usarla per colpire il pallone e fare gol vince chi fa tre gol abbiamo in mano al mio via mettiamo il gettore e partiamo Lo giuro avevo paura Rosalba e lo stereo Ma poi a due all'ora andavamo Ma che cosa? Tra l'altro spoiler Rosalba ha fatto qualcosa Sì sì Rosalba ha fatto qualcosa Guarda che uomo Io sono senza clava non me ne frega niente Flore Non me ne frega niente Flore Grazie Hello darkness my old friend I've come to talk with you Fissa laterale Go Basta ma Ma poi tanto credo Non vuoi essere così storm Attenzione Attenzione Vai Tutto da sole Contropiede La tocca piano La tocca piano Flore In difesa In difesa Hai preso 8 pali in 2 tiri Come è possibile Come andiamo a fare Sasha Rosalba Guarda che ha fregato il pallone Si è scherzata Si è scherzata Si è scherzata Vai Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Rimpare lì Rimpare lì Rimpare lì Rimpare lì Che fa il che già stavate Che guarda Rosalba Ma cosa? No Le mani E anche con la mano C'è Eeeeeee Palla morto Stavi anche sbagliando 3,4,5,6 Erano 6 a 1 Dice Nooo Ammenessiamole Allora Sasha Sasha c'entra in porta Stai accorgi in cazzo Raga perché c'è del culo E lui accompagnava solo Non c'era retromargin No non c'era retromargin Non c'era retromargin Ma dovevi smoltare Rosalba Ora si schianta Dove va Sasha? Tu staghi a dare Sasha ci sei da solo lì Cosa hai sulti? Dai che si conclude la tua puntata Noi sei felice di tutto ciò Ti è piaciuta? Lo volevo fare anche io Mettete mi piace Ma e vi invitiamo a seguire la prossima puntata Ciao NOOOOOO